Bentornati su Antenna 2 TV, eccoci qua per iniziare insieme una nuova puntata di 20.000 giri, il programma di Antenna 2 dedicato interamente al mondo della Formula 1. Come sempre saluto i nostri ospiti in studio, salve Mario Zucchelli. Buongiorno. E salve anche a Marco Iori. Buongiorno. Ed eccoci qui pronti a commentare insieme la gara che si è disputata ieri in Azerbaijan e che ahimè ha visto ben due ritiri, entrambi i piloti della Ferrari, non arrivare al traguardo, ma nel vivo di questa puntata avremo modo di analizzare tutte le dinamiche e il perché questo è realmente accaduto. Prima con l'ausilio della grafica vediamo la situazione attuale del Mondiale Piloti perché Verstappen allunga dopo la vittoria di ieri sul diretto avversario Perez e Leclerc che si porta quindi davanti con 150 punti. Anche Perez guadagna punti, sono 129 per lui secondo in classifica, terzo è Leclerc 116 punti, quarto Russell 99, poi troviamo Sainz ad 83 punti ed Hamilton a 62. Con la grafica vediamo anche la situazione del Mondiale Costruttori dove prima è ovviamente Red Bull con 279 punti, davanti a Ferrari 199, Mercedes 161, McLaren 65, Alpine 47 e chiude Alfa Romeo con 41. Come dicevamo ieri ben due ritiri per entrambi i piloti del team Ferrari, possiamo dire una sorta di disfatta di Waterloo se vogliamo metterla un po' in ambito storico. Quindi Marco vengo subito da te perché per il Mondiale effettivamente ora le cose si fanno dure e i pensieri anche in vista della prossima gara che arriverà domenica in Canada sono tanti. Allora sono 13 anni che non succedeva più che le due Ferrari si ritiravano. Ieri finalmente Minotto è riuscito a tenere, a eguagliare un record. Cosa si può dire? Niente, la Ferrari non è durata neanche a 20 giri, quindi è assurdo. Va bene che c'era bisogno di più velocità e tutto il resto, ma non si può pumpare solo la macchina così da un momento all'altro. Devi prepararti e basta. Io sono sempre dell'idea Minotto o fa il direttore tecnico o fa il progettista. Quindi o sta in ufficio o se sta in pista deve fare solo quello. Abbiamo un pilota che è un fenomeno, perché Leclerc è un fenomeno. Ha fatto una polo strepitosa, è una cosa incredibile, è impossibile. Adesso è probabilmente, adesso ci sarà inclinato anche il rapporto con Leclerc, perché quello che ha detto ieri dopo la gara praticamente è stato uno stufo. Voglio una macchina che almeno arrivi in fondo. Insomma, ha ottenuto l'ennesima pola, come hai sottolineato te. Era davanti quando il motore si è rotto anche per questa volta? Anche se non penso che sarebbe riuscito a vincere, perché Perez era più veloce, eccetera. Sì, però era comunque davanti, eccoci. Però era davanti, chiaramente. Poi oltretutto anche Sainz, che sicuramente ha fatto una figura abbastanza scarsa, ha avuto problemi di freni, quindi non lo so. Non credo, il Mondiale non ha che pensarci, augurarsi di vincere qualche gara, però sono molto, molto pessimista. Sì, anche perché anche in ottica di Mondiale Costruttori, come abbiamo avuto modo di vedere dalla grafica, anche Mercedes sta risalendo. quindi la situazione veramente si fa difficile per Ferrari e siamo, per dire, agli inizi comunque. Abbiamo ancora tante gare davanti e se le cose già stanno così... Insomma, non è che è successo, come era successo, che hanno fatto la stupidata l'ultima gara, eccetera. Qui proprio c'è tutta la macchina. Sì, sì, sì. E questo vuol dire che sono fuori dalle regole. Ecco, appunto, ne approfitto proprio per questo aggancio, Mario, per venire da te, perché tu pensi che i problemi avuti sì da Sainz, ma soprattutto dalle clerche, già con la prova precedente, ricordiamo che era andata male anche nel Gran Premio di Monte Carlo, e con queste due rotture effettivamente del motore siano figlie di una strategia forse spregiudicata nel voler portare off-limits la power unit di Ferrari? Ma può darsi, può darsi, sicuramente. Certo, la certezza, come dico io, è sempre sulla bocca degli sciocchi, però, di sicuro, di sicuro, in Ferrari, motoristi e aerodinamici hanno dovuto lavorare in simbiosi in questo senso. Vale a dire che una monoposto che è a una, come potremmo dire, per quanto riguarda proprio, ha una grande apertura, soprattutto dei side-pots, ha una larga, è piuttosto larga, diciamo, come monoposto. Questo cosa implica? Implica il fatto di avere maggior drag, maggior resistenza aerodinamica. La maggior resistenza aerodinamica, come la puoi combattere? La puoi combattere con due strade. O cerchi di ridurre quello che è, diciamo, vale a dire, i side-pots, li rendi probabilmente leggermente, un po' più sciancrati, li chiudi di più per cercare di migliorare la velocità di punta. O se no, l'altra strada è quella di cercare di spingere la power unit in full power. Ovviamente in full power porti tutta la power unit a lavorare in quel range molto alto. rischi. Ovviamente questo potrebbe essere una causa, ovviamente spingendo, perché la Ferrari ha guadagnato, tra venerdì e sabato, ha guadagnato 7-8 km di velocità di punta sul lunghissimo rettilineo di Bacco. È vero che avevano portato anche un alettone a basso carico, a basso low down force, però sicuramente la spinta, e l'abbiamo visto anche in prova, la spinta dove gli ingegneri motoristi spingono la power unit, sicuramente, certo, la portano a quel famoso off-limits, vale a dire a rischio o al limite, devono farla lavorare a regimi molto alti, facendola lavorare molti, magari molti, qui in questo caso sono stati solo 20 giri, però spingendola probabilmente al limite, ovviamente il rischio che una componente delle 30, 40, 50 componenti che compongono questa, sia la parte endotermica, può essere il turbo o l'ERS, può darsi che lavorando a questi regimi molti giri possa succedere quello che è successo ieri. Però, scusa, ma su 5 ritiri, 4 erano motori Ferrari, e questo penso che possa dire qualcosa. Questo deve far riflettere, sì, sì, ieri 5 ritiri, 4, effettivamente deve far pensare, ma si dice anche, Marco, che nel prossimo Gran Premio del Canada la Ferrari dovrebbe depotenziare la Power Unit a favore di una maggiore affidabilità. Ma per me il Canada è sempre stata favorevole la Ferrari, quindi non credo che abbia bisogno di, sicuramente puoi perdere quel poco, ma lì è mancata proprio l'affidabilità, nel modo più, credo, più, chiaramente io non sono un tecnico, sono un appassionato, però è un sistema più, più normale, ecco, anche, cioè, alziamo, tiriamo, giriamo la chiave, facciamo girare di più e basta. Però quello viso comporta anche quello che poi è successo, che non puoi durare tutto, durante tutta la gara, credo che lì bisogna fare un esame di coscienza, torno a ripetere, di notto stia, con i motoristi stia negli uffici, non deve andare in pista, ci mettono una persona, ma non tirano fuori qualcuno di vecchie persone, qualcuno lo troveranno per mantenere i box, ma lui non ci deve stare, deve stare a casa sua a sistemare, a lavorare sui motori, sulla macchina, a mio avviso è questo. Ecco, invece Mario, in questo Gran Premio, ti chiedo un commento, anche se poi va bene, sappiamo com'è finita per Leclerc, però è stata la Ferrari a fare la prima mossa che in regime di Safety Car, di Virtual Safety Car, ha fatto rientrare Leclerc per sostituire i pneumatici. Come hai visto questa mossa della Ferrari e anche un'osservazione in merito ai cambi dei pneumatici, perché i tempi per Ferrari rimangono alti per quanto riguarda le sostituzioni? Eh, ieri sì, le altre volte sono stati nei tempi record, questa volta nel cambio dei pneumatici di Leclerc sono dati a 5,7, c'era la posteriore destra, la posteriore destra che non entrava e si è allungato i tempi. Ma questa volta sulla strategia possiamo dire che non ha, cioè dico, non ci sono, vorrei dire, non ci sono stati, a mio parere, degli errori, anzi, se vogliamo, è stata anche una strategia studiata bene, vale a dire, quando è entrata la Virtual Safety Car è rientrato, perché sappiamo che entrando con la Virtual Safety Car si dimezzano i tempi di entrata e uscita delle monoposto, vale a dire, ieri l'entrata e l'uscita per il cambio, per la sostituzione pneumatici era tra i 20 e i 21 secondi, ovviamente si dimezza, diventano 10, pertanto la strategia è stata vincente, quando sono rientrati i due della Rebel, Leclerc viaggiava con 14-15 secondi di vantaggio, è probabile, siamo sicuri che negli ultimi giri, se non ci fosse stata, poi, al 35esimo giro c'è stata un'altra Virtual Safety Car, sicuramente sia Leclerc, sia Vestapene, sia Perez sarebbero rientrati a sostituire i pneumatici, perché sicuramente sapevano anche loro che non sarebbero riusciti ad arrivare alla fine, pertanto poi ci sarebbe stato da capire quanto magari il Rebel sarebbe riuscita poi magari a prendere la scia di quei 13-14 secondi quanto avrebbe avuto ancora di vantaggio prima al 35esimo giro, questo non lo sappiamo, qualcosina giro dopo giro Vestapene rosicchiava a Leclerc, però mentre Vestapene tirava, andava in full power e tirava, Leclerc è molto probabile, perché ovviamente non poteva sapere se uscìva una safety car o una virtual safety car, quei pneumatici se non fosse più riuscito a rientrare, se non fosse uscito da safety car, si sarebbe portati fino alla fine, però il crossover era al limite, andavamo a raggiungere quasi più di 40 giri, 42-43 giri, ha cambiato all'ottavo, pertanto voglio dire il crossover delle hard eravamo quasi al limite, se non addirittura quasi oltre, pertanto Vestapene ha cambiati otto giri dopo, però certo va anche calcolato che dei quei 15 secondi che aveva di vantaggio, Vestapene per cercare di riuscire di ridurli avrebbe dovuto comunque spingere e portare ovviamente il suo compound ad azzerare gli otto, come si dice, gli otto giri di vantaggio, gli otto giri, perché ovviamente si spingi il compound e si spingi addirittura un secondo al giro in 5 o 6 giri ti mangi già il 30-40% del compound del pneumatico, pertanto anche Vestapene avrebbe dovuto gestire, poi vabbè a 35esimo giro e c'è stata questa virtual safety car, sarebbero probabilmente di sicuro rientrati tutte e tre, avremmo dovuto vedere quant'era il gap tra Leclerc, Vestapene e Sainz e di lì dopo probabilmente si sarebbero giocati in Gran Premio, sappiamo che la Rebulle aveva più velocità di punta, però magari se fosse stato superato anche la Ferrari sulla scia, se fosse riuscita a rimanere dentro il famoso secondo per l'apertura del DRS, può darsi magari che anche Leclerc avrebbe avuto magari il suo colpo in canna per tentare di superare Verstappen in gara. Marco, volevi aggiungere? Però è una pista che ha un basso consumo di gomme, quindi poteva gestirle anche, avrebbe potuto gestire discretamente, non era proprio così tanto critica, ecco. Sì, non porta a consumare così facilmente il pneumatico, sì. Non è una pista con grossi consumi di pneumatici. Sì, 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 però è probabile quando è entrata la seconda Virtua Safety Car, visto che li hanno cambiati in tanti, dopo 35 giri, cioè, perché il crossover di 43 giri per le hard rischiavano probabilmente di arrivare tutti impiccati, diciamo, perché il compagno ormai sarebbe quasi stato, voglio dire, consumato, ormai non c'era niente. Il pneumatico andava a livello diciamo di usura, ormai era usurato, si dice, quando ormai non ne hai più, rischi quasi di rimanere sulle tele, con il rischio anche lo scoppio, e attenzione. Esatto, eravamo tra i 35 e i 38 giri il crossover delle hard, qui arrivavamo a 43, poteva succedere anche niente, però bisogna vedere se il compound reggeva gli ultimi giri, perché poi presto dopo, e quando il compound cede, diciamo, cede le prestazioni, diventano a livello esponenziale, vale a dire, spiego, al 47esimo giro perdi un secondo, al 48esimo giro ne perdi uno e mezzo, al 49esimo giro ne perdi due, al 50esimo ne perdi tre, esatto, perché poi man mano non ne hai più, non ne hai più, perdi, ti aumentano, il gap diciamo che perdi aumenta in modo esponenziale. Bene, noi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, a tra poco. Rieccoci insieme seconda parte di 20.000 giri, Marco vengo subito da te perché abbiamo parlato molto di Ferrari, abbiamo fatto un cenno anche a Red Bull e proprio con Red Bull voglio proseguire o meglio iniziare questa seconda parte della nostra puntata. Per come si stanno mettendo le cose attualmente, pensi che Perez potrebbe andare ad insediare Verstappen direttamente per il titolo del mondiale piloti oppure il team le direttive dall'alto lasceranno che Perez faccia semplicemente da scudiero e Verstappen si porti a casa un possibile titolo? In questo momento è logico che Perez deve cedere di fatti l'ha fatto anche ieri è logico che non è proprio tanto contento lì ci sono degli ordini di scuderia lui ha firmato un contratto dove sicuramente c'è scritto che deve fare quello che sta facendo è un po' un Bottas con Hamilton quindi penso che in quei momenti quando se Verstappen sarà più avanti ancora è logico che gli lasceranno anche lo spazio ieri ne aveva di più Perez però l'ordine scuderia è stato quello in un circuito così ha poi fatto un po' la sceneggiata ma assolutamente c'è il numero uno numero due fino a che non ci sarà una certezza che potrà arrivare non credo tra non molto perché la Red Bull è nettamente superiore a tutti gli altri adesso si è avvicinato un po' la Mercedes ma 30 secondi il gap è ancora molto ampio da fare non credo che ci sia niente da fare ecco lasceranno quando ci sarà più certezza lasceranno spazio anche Perez ieri in quel circuito qui andava sicuramente andava meglio Perez è dimostrato perché nei giri veloci e tutto il resto però le ordini sono quelli ok bene invece Mario io volevo farti una domanda in merito tornando a Ferrari in merito a Binotto perché questa settimana Binotto ha rilasciato delle dichiarazioni che devo dire hanno lasciato scettici molti appassionati non solo della Ferrari ma della Formula 1 in generale ovvero che ha dichiarato che un conto è tornare competitivi un conto è essere in lotta per il Mondiale effettivamente è un'affermazione un po' particolare un po' allarmante preoccupante o non adatta semplicemente a un team principal soprattutto perché parliamo anche di Ferrari sì diciamo lo jacuzzi che ci vuole lanciare nei suoi confronti è il fatto che un team principal queste affermazioni soprattutto dicendo allora se è inizio di stagione lo posso anche capire ma dal momento che l'ha lasciato 15 giorni va sei in lotta per il Mondiale non devi lasciarti andare in queste dichiarazioni che sono voglio dire dichiarazioni non tanto per il discorso di essere pessimistiche però per lo stesso ambiente in cui lavori soprattutto che sei vicino e sei un team principal e lavori a fianco di 400 500 persone che lavori devi tenere diciamo alto il morale dire dire un generale che va in guerra dire probabilmente vabbè siamo qui in guerra ma la perdiamo porta un generale con tutte le truppe una cosa cosa deve dire un generale lo può pensare che possa essere una guerra diciamo secondo la sua strategia magari può essere anche una guerra con la paura magari di perderla vedendo le situazioni però ovviamente non lo deve dire la truppa se no si demoralizza la cosa gli contesto gli contesto che un team principal può pensarle quelle cose ma nel momento finché sei in lotta per il mondiale devi spingere devi spronarle ecco la parola giusta devi spronare sì devi motivare tutta quella motivare ecco essere un motivatore essere un coltivatore di talenti devi essere devi spronare tutto il tuo entourage voglio dire che puoi essere telaistici motoristici meccanici e quant'altro siamo qui certo non puoi dire non puoi nemmeno dire diciamo agli opposti e dire sì sì siamo qui vinciamo il mondiale tranquillamente state tranquilli no diciamo però siamo qui ce la stiamo giocando vediamo di mettercela tutta di quello che possiamo fare si porteranno pane e salame fiasco di vino va bene facciamo la scampagnata Canada poi l'accent clima che è così particolare si può fare la scampagnata è quello che vuole fare lui lì è quello buono che dice tutti buoni bravi eccetera non alza la voce mai forse dovrei alzarla anch'io non alza mai la voce quando si presenta poverino non lo so non ha non ha carattere cioè ripeto quello lì lo devono tenere chiuso a progettare le macchie che credo che se non sia scarso però diviso su due situazioni così è assolutamente assoluto ma è possibile che non ci sia una figura all'interno del team Ferrari o anche presa da fuori che possa svolgere in maniera adatta questa funzione è da anni ormai che ce lo si chiede è possibile che un team come Ferrari non sia ancora arrivato a una soluzione la Ferrari è l'unica squadra che ha il progettista in pista gli altri ce li hanno a lavorare poi hanno gli strateghi le persone che sanno cosa si fa in pista quali sono in pista la Binotto la pista non sa neanche dov'è credo che lui giri così penso che non abbia mai girato neanche a Maranello sulla macchina non so se ha la patente lui lì cioè capisci è fuori posto completamente è uno che ha cresciuto la Ferrari così è lì proprio la credo che anche Elkan dovrebbe svegliarsi e andare a buttare un po' un po' per aria lì tutto lì deve rivaltare tutto quello che è con la parte lì penso che le persone buone capaci ci siano dietro ma se devono dare retta a quello che dice Binotto per me è assurdo qui manca proprio diciamo anche il condottiero la figura di questa perché è una struttura piramidale se vogliamo come si gestisce un team di Formula 1 si gestisce un'azienda non dico tanto parlando del presidente però appunto c'è il direttore commerciale c'è il direttore tecnico c'è l'amministratore delegato nell'azienda ecco a noi manca proprio la figura lo ripeto sempre manca anche magari voglio dire anche Binotto magari a fare fare però ci manca lo Jean Todd quella figura piramidale vale a dire il gran capo possiamo definirlo ecco il gran capo che può gestire tutta questa figura piramidale allora questo gran capo riesce poi nella gestione di dover far lavorare tutti in simbiosi perfettamente abbiamo ancora questo anello debole dipendentemente poi adesso delle rotture power unit e quant'altro cosa siamo scollegati ancora di questo personaggio il vero gran capo possiamo definirlo sopra anche il team principal ecco la figura come faceva Jean Todd c'era Rose Brown che faceva il team principal c'era uno come il direttore il direttore il gran capo proprio di tutto l'apparato di questa forma diciamo piramidale che si dice così esiste diciamo a livello aziendale come gestisce un'azienda come gestisce diciamo un team e quant'altro Mattia Binotto sarà per il suo carattere io penso che lo vedo piuttosto docile un suo carattere troppo buono ecco buono per carità non è che puoi andare a fare il matto in pista a urlare sbraitare quello no però ecco abbiamo bisogno di un carattere diciamo più forte più deciso e questa figura anche in Ferrari innanzitutto prima manca e poi abbiamo anche un team principal piuttosto diciamo piuttosto morbido ecco è un budino è un budino ecco siccome abbiamo poco tempo a disposizione voglio approfondire ancora un paio di cose Marco vengo da te perché vorrei parlare brevemente anche di Lewis Hamilton lo so che ti sta molto simpatico quindi pongo a te la domanda abbiamo visto che sì ultimamente Mercedes qualche piccolo miglioramento glielo riconosciamo lo ha fatto però c'è anche da dire che nella gara di ieri soprattutto nella parte del rettinino Hamilton ha lamentato un forte pursing che gli ha praticamente queste sollecitazioni sballottamenti come possiamo chiamarli ecco che gli ha distrutto schiena e gambe possiamo parlare ancora quindi di problemi a livello aerodinamico per Mercedes perché non lo ha avuto anche Russell non so non capisco che lui dice deve avere anche meno feeling con questa macchina è Hamilton è logico lui si deve sempre lamentare c'erano tutti con lui poverino perché lui poverino e tutto il resto però le sta beccando di brutto da Russell Russell non parla cioè fa le sue gare lo bastona perché anche ieri aveva avuto 25 secondi quindi è solito che si attacca sempre sulle cose lui non si rende conto che ormai non avendo la macchina nettamente superiore come ha sempre avuto ma è la stessa cosa di 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 Verstappen che sta facendo che lui sta cominciando a lamentarsi che ieri che c'era qualcosa sotto le scarpe sentito il rumorino chissà non so che cavolo sono cioè tanto per dire io ce l'ho fatta a me sembra siano degli esibizionisti sono forti tutto quello che vuoi ma se hai un problema ce l'hai lo segnali però deve essere un problema vero non c'è te fregnazze che raccontano ieri certo la Mercedes balla però balla anche quella di di Russell allora vuol dire che lui è troppo vecchio cioè per la Formula 1 chiaramente non perché non come no no certo assolutamente è mio figlio quindi ma ormai è fuori lui non ha più la macchina per competere adesso ha sbagliato tutto si ritirava da campione e sarebbe stato ancora adesso sta facendo delle figurazioni certo certo quando sei a quei livelli lì vale a dire che dopo senti sotto i piedi che perdi tutto lo scettro del potere che ti vedi che ti vieni sfilato diciamo dalle mani diventano un po' tutti quelli lamentelli un po' da ragazzi di quei bad boy cattivi ragazzi viziati insomma che cercano sapere la scusa ecco lamentarsi di qui lamentarsi di là che invece non dovrebbe mai lamentare per carità capisco che questi saltellamenti lo si vedeva dall'onboard si vedeva che veramente la macchina di Hamilton veramente era veramente elevato sicuramente gli avrà fatto male la schiena le gambe però d'altronde insomma credo comunque va anche calcolato che dentro in queste in queste faticacce chiamiamolo sono profumatamente pagate insomma 25-30-40 milioni di euro penso che puoi anche riuscire a superare saranno fastidiosi e lo posso condividere saranno fastidiosi sicuramente però l'ha fatto anche male la schiena non lo metto in dubbio però insomma c'è anche un paragone che si può fare adesso che è Alonso perché anche Alonso non è più ragazzino non è anche lui però non dice mai il tubo è assolutamente è una macchina che è inferiore alla Mercedes ecco siamo davvero quasi in chiusura Mario volevo approfittare tramite l'ausilio della grafica anche per chiederti se ci puoi spiegare come è il fondo delle monoposto e anche il ruolo che svolge l'estrattore ma qui diciamo è un render tratto da motosport.com come notate questo è il disegno del grande ingegnere Giorgio Piola che lui si diverte è un bravo ingegnere e si diventa proprio in merito ecco come notate sul lato sinistro notate questi canali curvilinei sotto la monoposto questo flusso d'aria che la monoposto viene investita davanti questi flussi d'aria da una parte entrano in questi canali curvilini e creano di fatto downforce carico aerodinamico nella parte anteriore che abbiamo lo splitter che qui si vede proprio non si vede meno però ecco proprio sotto la monoposto ma nella parte anteriore vicinissimo dove ci sono le sospensioni delle ruote anteriori c'è uno splitter a cosa serve gli viene ad incanalare l'outwash vale a dire l'inwash scusate perché l'outwash sono i flussi d'aria esterni l'inwash attraverso l'alettone anteriore l'aria viene convogliata verso l'interno passa in questo splitter viene convogliata tutto verso il fondo vettura dove c'è questo estrattore questo estrattore serve lo parlo dice la parola stata estraendo questa aria che esce e chiaramente sono canalizzati forzatamente si crea questo carico aerodinamico la monoposto si crea questa sottopressione la monoposto viene schiacciata al suolo e viene nasce proprio questo downforce questo carico aerodinamico questo carico aerodinamico ricordatevi che deve essere sempre un compromesso tra il carico aerodinamico e la velocità di punta se hai troppo carico aerodinamico come è successo in questi primi inizi di campionato avete visto la Ferrari non raggiungeva grandi velocità di punta rispetto alla Rebbo tanto è vero che sul rettilineo pagava 8, 10, 12 km orari è stata leggermente alleggerita non tanto sotto per quanto riguarda il flusso devi lavorare sull'anale anteriore sull'ala posteriore questo può lavorare poi in parte la Ferrari nel prossimo futuro presumo che possono essere delle novità per quanto riguarda la parte dei side pole vale a dire le fiancate può darsi si dice che nel prossimo Gran Premio dopo il Canada da Silverstone arrivi un pacchetto di upgrade proprio che riguarda proprio per riuscire a lavorare e migliorare la velocità di punta della monoposto perfetto allora noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di 20.000 giri ricordo che ci rivedremo già lunedì prossimo perché domenica si gareggia in Canada e io ringrazio i nostri Mario Zucchelli e Marco Iori per essere stati con noi buongiorno di 20.000 giri